in post basso contro Pasco riapre per Righetti il tiro di Alex Righetti 9 a 8 riedi c'è comunque Coponen la tripla e certo che Bologna ne ha tante di frecce nell'arco non recupera palla l'errore al tiro poi di Bologna recupera Campbell ancora riedi avanti e la schiacciata di Berbis Pasco più 9 riedi travolgente e la di Bologna che recupera palla ora si lancia canestro il canestro in rovesciata Green vuole reagire Righetti e lo fa con Jerry Green 7 a 2 a favore delle puniere che hanno ancora il possesso palla con Langford ora ed è il canestro del sorpasso è andato avanti ora 41-40 Giovannoni è bella bella l'azione bello intaglio di Kit Langford Pasco Pasco Assegno e cosa fa Pasco un servizio sotto canestro per Pasco si riprova Mario si riprova Mario a segno Mario a segno Mario ci serve ecco Ubalè che si prova da tre e la mette e la mette la mette Luca sfrutta il blocco di Pasco su di lui c'è Terry se ne va a canestro e con il pallo con il pallo in un incontro che ripetiamo a lungo verrà ricordato Assegno Green 24 Solsonica è avanti di 23 e guardate si chiude così con la schiacciata di Tom Omar Thomas l'errore finisce qui attenzione una partita che posso dire di poter essere orgoglioso per Rieti di aver commentato